L'incidente di ieri pomeriggio intorno alle 16.30 nella sede di Formula Ambienti a Chieti, dove un autista di una ditta esterna è rimasto gravemente ferito mentre cercava di riprendere il controllo del mezzo. Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, in continuo contatto con il primario del pronto soccorso del Santissimo Annunziata Tafuri e con gli altri operatori sanitari, riferisce che purtroppo le condizioni dell'autista sono critiche e in rianimazione intubato con politraumi. Tutto è accaduto ieri quando l'uomo, 64 anni, che non era a bordo del mezzo, ha cercato di riprenderne il controllo nella sede di Formula Ambiente. Il camion di una ditta esterna che trasporta l'organico appena caricato si è sferenato ed è rimasto con la cabina in bidico sul terreno, dove vengono fatte le lavorazioni. L'autista non era a bordo, ma nel rincorrere il mezzo, quando lo ha visto muoversi, è caduto per un paio di metri su un terreno sotto il livello della strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e una gru per risollevare la cabina del mezzo pesante e il 118, chi ha trasportato l'autista all'ospedale Santissimo Annunziata. Ora non resta che sperare. Grazie a tutti.